Era un segmento mancante alla Procura di Catanzaro questo interesse da parte dei miei magistrati ad interessarsi anche dei reati economici, anche delle associazioni finalizzate a commettere reati di natura economica. Sostanzialmente questa è un'attività tipica della Guardia di Finanza che ha iniziato con l'indagare sul campo, su strada, movimenti a nomeri di autocisterne, di gasolio che poi in realtà era gasolio destinato per trazione agricola, poi in realtà veniva venduto nei distributori e quindi c'era un guadagno doppio e quindi c'era una sleare concorrenza. È importante quindi, è un'indagine difficile sul piano contabile, sono indagini faticose, lunghe che spesso non portano a risultati concreti, positivi perché c'è il fumus, capiamo, si capisce che c'è il reato però non si riesce a dimostrare. Questa volta la Guardia di Finanza di Catanzaro è stata particolarmente brava perché non solo ha controllato come loro solito la parte contabile ma poi grazie anche alla professionalità di bombardieri della collega Deborah Rizza sono riuscita ad incrociare risultati, intercettazioni telefoniche, ambientali abbastanza positive e quindi si è riuscita ad arrestare queste 10 persone. È un successo, diciamo che nell'ultimo periodo è un unicum sul piano nazionale. Apparentemente è una indagine piccola perché si arrestano 10 persone, nelle realtà apre un mondo perché ricorda scenari antichi di tanti anni fa. Noi siamo molto soddisfatti, siamo partiti da un'attività di iniziativa, un'attività che si è svolta il 30 dicembre alle 3 di notte, quindi abbiamo fermato, e questa la dice lunga, sui metodi e sul tentativo di arrivare ai loro scopi illeciti. Li abbiamo bloccati e poi da lì, e questo è l'aspetto molto importante, non ci siamo limitati al solo sequestro. Siamo andati in profondità grazie alla sinergicazione con la Procura della Repubblica di Catanzaro e siamo riusciti ad arrivare a individuare tutta l'organizzazione, disarticolandola completamente. Un'organizzazione che riusciva a fare degli enormi guadagni e ad evadere sia l'IVA che l'ACCISA su questi prodotti in modo notevole, in un solo anno, come si è detto, circa 2 milioni di euro di evasione in un solo anno. Stiamo parlando in sostanza di oli minerali destinati all'agricoltura, quindi con fini agevolati e quindi con prezzi agevolati, con imposte agevolate, che invece venivano esitati sul mercato creando a sleale concorrenza con gli altri operatori ricorretti come gasolio per autotrazione. Perché il gasolio chimicamente è lo stesso, è solo che dal punto di vista per agevolare certi contesti viene data giustamente una agevolazione, che però deve andare in quel contesto per il quale è indirizzata, cioè quello agricolo. In questo caso non avveniva così. Il procuratore colpisce molto il fatto che sembra quasi che non ci sia un settore della vita economica, soprattutto tra quelli agevolati che non finisce nelle mire di interessi criminali. Il traffico illegale di oli minerali e di carburanti è una nuova frontiera di business legale. Ci sono anche operazioni trasnazionali di importazione illegale di carburanti e di oli minerali. La Guardia di Finanza, grazie ad un lavoro attento e incrociato di attività investigativa pura, di esame documentale della documentazione fiscale e contabile, è riuscita a desarticolare un'organizzazione che operava in tutta Italia, quindi che partendo da Catanzaro, con base a Catanzaro, però si riforniva in Emilia Romagna, in Puglia e poi distribuiva su varie parti del territorio nazionale questo combustibile. È evidente che dove c'è guadagno si innestano poi gli interessi della criminalità in generale. Come diceva il procuratore, come diceva il generale prima, queste sono nuove frontiere di reato perché sono difficili da scoprire in quanto ad una documentazione fiscale apparentemente ordinaria, apparentemente legale, si accompagna poi invece una finalità illegale che inquina in maniera inesorabile il mercato, la libera concorrenza. Procuratore, con l'arrivo di rinforzi anche alla procura, ci sarà anche la possibilità di dedicarsi ancora di più a questo tipo di attività? Allora, questi sei sostituti alla procura, i dieci giudici al tribunale arriveranno il 2 novembre. L'altro procuratore è giunto, speriamo entro ottobre di farcela e quindi ci potenzieremo molto, si potenziereà molto l'ordinaria anche la DDA perché il nostro progetto è di portare la procura, il giorno in cui mi sono insediato alla procura, alla DDA c'erano sei sostituti. La nostra idea è quella di arrivare a 12, quindi raddoppiare la procura distrettuale e poi di poter la procura ordinaria potenziare notevolmente, se sostituti alla procura ordinaria giovani con fame di lavorare, di affermarsi anche perché si tratta di colleghi che già abbiamo conosciuti, molto motivati e soprattutto era gente che poteva stare tranquillamente in posti molto più comodi e più belli di Catanzaro.